buongiorno cuori eccoci qui direzione bergamo alla fiera creativa evviva 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 allora solitamente tutti fanno un vlog dentro alla fiera io invece ho pensato di farvi un mini video dove vi parlo come mi organizzo io la giornata in fiera innanzitutto vado nel sito della fiera creativa e mi scarico il buono sconto di due euro e sul biglietto d'entrata poi vado nella sezione espositori li vedrete che ci sono tutti in ordine alfabetico io praticamente cosa faccio me li passo tutti quanti scelgo quelli che mi interessano i padiglioni sono due a e b e me li divido a seconda del padiglione e poi li metto anche in ordine crescente come in questo caso il primo vedete nel padiglione a al numero 3 4 poi viene l'otto e via dicendo faccio tutta questa lista in modo che così la giornata la sfrutto al meglio e soprattutto so di non perdermi nessun padiglione nessun espositore che mi interessa ecco faccio così o mio marito che mi dice qua di fianco taglia non allungare troppo ma voi sapete che io chiacchiero 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 comunque sono una che si organizza che non ama perdere tempo ma soprattutto che ama utilizzarlo al meglio e questo è il mio modo di fare con questo vi saluto e vi aspetto nel prossimo video che sarà il video acquisti che avrò fatto in questa fiera allora vi dico sinceramente che la mia previsione di acquistare molto poco in questa fiera vado per vedere le novità per vedere quello che propongono ma non dovrei acquistare troppo comunque vedremo e vedrete quando farò il video ciao a tutti ciao